Benvenuti al nuovo social test di Omniauto.it, più elettrizzante che mai. Da una parte i vostri suggerimenti per delle prove fuori dal comune, dall'altra la Nissan Leaf, l'auto Nissan 100% elettrica, 100% tecnologica. Sono Angelo Jay e oggi vi presento due sfide folli e una. Sabrina e Paolo, marito e moglie, testeranno la Nissan Leaf in una gara contro i mezzi. Lorenza invece testerà la Nissan Leaf in una sfida con Rollerblade e Mazdao. Siete pronti?